Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo post partita PSG 3, 4, no 3, 4, 5, 3, Milan 0, sono qui con il dottor Redondo e Steve, ciao ragazzi, ciao, ciao, vabbò questo giro parto io, parto io e dico partita, partita deludente, come abbiamo detto in live, mi aspettavo a cose in più, sotto il punto di vista della voglia, ma neanche della voglia, proprio della voglia, del fuoco negli occhi di voler provare a fare qualcosa di importante, non l'ho vista, cosa che invece ho visto magari lo scorso anno, ricordavamo anche in live, partite anche dove partivamo in svantaggio, con qualche assente, dove abbiamo dato l'anima, oggi sinceramente l'anima non l'ho vista. E ci sono rimasto molto male, sono ancora sotto shock per il secondo gol subito, perché il secondo gol secondo me è proprio la fotografia della partita di questa sera, dove loro hanno battuto subito il calcio d'angolo, non ci stai con la testa, è uno che si sistema il calzettone, l'altro che parla col compagno, uno che dà le indicazioni e quelli intanto segnano. È un peccato perché nonostante il PSG, squadra nettamente superiore nei singoli, nel collettivo, abbia creato tanto, eravamo comunque ancora lì 1-0, tutto poteva succedere, pesa tanto l'errore di Pulisic, l'errore di valutazione, quando poteva tirare invece cerca Giroud, da lì poi il 2-0. E sinceramente non c'è mai stata quella roba e dire la riprendiamo, forse un minimo 10 minuti dopo il cambio, il doppio cambio, un minimo abbiamo avuto un senso d'orgoglio, durato pochi minuti, ammazzato come avevo largamente previsto dal 3-0 del PSG. Cosa dire? Sì, sono d'accordo, non abbiamo mai avuto, non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra questa sera, perché comunque si vede anche dalle situazioni di difficoltà, no? Invece mi è sembrato quasi una partita d'allenamento, soprattutto nel secondo tempo, troppo facile per loro e io ti dico per me, per dire, l'Inter o comunque un'altra squadra un po' organizzata, mette comunque in difficoltà questo PSG questa sera. Io ho visto una squadra molto forte nei singoli, ma che non mi ha impressionato a livello di gioco. Gli abbiamo reso le cose talmente semplici che francamente per gente così diventa un gioco da ragazzi. Io trovo che siamo sempre molto presuntuosi nell'andare a affrontare questo tipo di partite, poi sarà una mia idea, ripeto, poi c'è chi deve difendere per forza, l'allenatore, la società, i giocatori, chi vuole difendere. Io commento quello che vedo, c'è una superiorità netta nei singoli dell'avversario, a maggior ragione in questo caso, perché poi magari in Italia queste osservazioni si può dire che non sono d'accordo, ma in questo caso direi che per forza di cose devi ammettere una superiorità nei singoli. Cosa ti costa andare a giocare un po' più compatto, andartela a giocare un po' più stretto con i reparti, senza andare a fare quel pressing asfissiante, oltretutto che nei primi minuti abbiamo provato a fare all'impazzata come al solito, ma contro un Paris Saint Germain che ovviamente gioca a un ritmo superiore rispetto a quello a cui siamo abituati, perché sono più bravi col pallone, la palla gira più velocemente e quindi perdi un sacco di energie e poi nel secondo tempo eravamo sfilacciatissimi, reparti distanti, chilometri. Io penso che un'altra squadra organizzata diversamente, faccio l'esempio dell'Inter perché spesso siamo lì a giocarci poi i campionati con l'Inter e a dire che arriviamo più o meno agli stessi punti, quindi non c'è sta grande differenza, per me la differenza sta nell'organizzazione, perché questa sera io penso che l'Inter, per fare appunto questo esempio, non avrebbe concesso gli spazi che abbiamo lasciato noi, magari avrebbe perso, ma avrebbe fatto mettendo molto più in difficoltà a Paris Saint Germain. Per me non ha senso, è molto presuntuoso andare a pensare di affrontarli alla pari, capisco che è un discorso di mentalità europea, molti dicono eh ma Steve devi abituare alla mentalità europea la squadra, è giusto andare a giocare a viso aperto, ho capito, però devi anche avere i giocatori per farlo, perché poi ricordiamo a tutti quelli che dicono beh ma siamo una squadra giovane e cresceremo, che poi in realtà l'età media della nostra squadra adesso io non ho davanti delle statistiche, ma non penso sia tanto diversa da quella del Paris Saint Germain stasera, semplicemente sono più forti, cioè non è che noi siamo giovani e un giorno diventeremo come Paris Saint Germain, no, cioè l'età media quella è, quindi se c'è una differenza sarà minima, no? Quindi secondo me l'unica cosa che puoi fare è andare a giocare con umiltà. Anche per esempio il pressing asfissiante che abbiamo fatto, asfissiante magari è un po' esagerato, quel pressing attivo che abbiamo fatto nel primo tempo spesso era vanificato da come dicevi tu no? Due o tre triangolazioni, loro uscivano alla grande e poi avevi le praterie dietro. Certo, certo. Io devo dire che mi aspettavo questa partita. Quando dico mi aspettavo, mi aspettavo che le squadre giocassero larghe, cioè proprio per sfruttare i velocisti. Mi aspettavo anche che prima o poi avremmo avuto delle occasioni. Sinceramente oggi siamo stati almeno sei, sette volte davanti, ma tecnicamente non ce la siamo gestita bene. Dei passaggi che non sono arrivati al compagno, cioè in area piccola, dei controlli sbagliati. La partita alla fine Pioli l'aveva impostata così e siamo anche stati poco fortunati, però tecnicamente siamo un gradino più basso. Poi pesano ovviamente, come dicevi Michele, la poca lucidità sottoporta, anche perché ora, ridendo scherzando, sono quattro partite che non si segna in Champions. Sì, però si torna sempre lì. Il discorso non è solo in Champions, il problema è che facciamo fatica a segnare, perché comunque, come dicevamo anche in live, Giroud non segna dal primo settembre. E tu hai, sì, hai Leao, Pulisic, che ogni tanto possono fare la giocata del singolo, ma se no non porti altri giocatori a segnare. Cioè non hai un inserimento della mezzala o qualcosa che dici segnano anche altri, no. Tu sei molto legato a quella roba lì, all'azione di Leao e al gol di Giroud, che se non è nel suo momento, fa magari un mese, due a non segnare. E non hai un'alternativa. E io per quello dico, io non è che voglio, cioè sembra sempre che quando uno poi fa questi discorsi, ah, eh, si perde subito a criticare, a fare, a disfare, per amor del cielo. Non sto dicendo che il Milan sia una squadra scarsa, costruita male o che. Sto dicendo che quando tutti si esaltavano, io dicevo, un momento, cioè comunque, guardi, ah, ci sono cose positive e altre su cui sono più scettico. E secondo me alcuni si stanno confermando. Poi magari a gennaio andremo a completare il reparto offensivo e tutto, ma a questo momento è evidente, ma era già evidente quest'estate, che la priorità dovesse essere una punta. Perché lo sapevamo che arrivavi in questa condizione. E poi speriamo che Giroud a 37 anni continui comunque ad essere disponibile, perché stasera, ok, non avrà brillato sottoporta, ma comunque è uno degli ultimi a mollare. Anche negli ultimi minuti è venuto in difesa a evitare il quarto gol del Paris Saint-Germain, perché non voleva subire un passivo maggiore, no. Però comunque sottoporta ai suoi momenti di poca lucidità e non hai un'alternativa. Poi abbiamo l'unica riserva che abbiamo comprato che si fa male nel riscaldamento e purtroppo siamo corti. Cioè io, la cosa che a me un po' spaventa, tra virgolette, che alla fine, per cui io non mi ero così esaltato per il mercato, perché dico, ok, abbiamo preso dei buoni giocatori, ma aspetto ad esaltarmi. E il fatto che alla fine, sì, hai migliorato qualcosina da qualche parte, però hai comunque la coperta sempre troppo corta. Cioè io non vedo questa differenza abissale con lo scorso anno. Hai sicuramente, quando la squadra è al completo, cioè mai, delle riserve un po' più forti sulla carta. Però alla fine, nella sostanza, cioè questa è la stessa prestazione che avremmo fatto l'anno scorso. Con l'Inter nel derby hai fatto la stessa prestazione, se non un peggio dell'anno scorso. Poi hai vinto delle altre partite contro delle squadre più piccole, però, cioè, comunque le vincevi anche prima. Cioè, il salto di qualità c'è davvero stato? È presto per dirlo, magari cresceremo, però in questo momento io non lo vedo. Cioè io vedo sempre lo stesso Milan. Se non fa la giocata a Leao, se non è in serata come stasera a Leao, il Milan è questo. Cioè è lo stesso dell'anno scorso. Se ci pensiamo, veramente siamo sotto incantesimo. Cioè nel senso che aspettiamo la giocata di Leao. Non c'è schema. Io non so se nelle altre squadre esiste una cosa del genere. Cioè l'Inter non si aspetta la giocata di Lukaku o Lautaro. Cioè si aspetta che possa segnare anche un centrocampista. Noi veramente siamo legati a Stoli. No, prima voleva dire Lautaro, non Lukaku. Scrivere, scusate. No, volevo dire Toramora. Ok. No, nel senso io mi ricordo che c'è stato l'anno, quando era l'anno 2020, che il Milan secondo me giocava veramente bene. Io lì vedevo davvero un Milan fresco, che secondo me era una delle squadre che giocava meglio al calcio in Italia. Però vi dico la verità, io dopo quell'anno lì, io non l'ho visto più. Siamo ormai scontati, non vedo idee. Tanto è che quando si parlava spesso, ero anche ospite in altre live, no? Malmina manca il piano B. Ma a me sembra che manchi il piano A, davvero. Perché adesso è o palla a Giroud per cercare una sponda, o palla a Leao per cercare una giocata individuale. Ma perché Pioli non rinuncia? Con lo schema di gioco che abbiamo e con le mezzali che abbiamo, davvero le mezzali dovrebbero garantire molti più gol. Ma non succede perché? Perché sono scarse? No. Perché non vengono messe nelle condizioni di segnare, di essere pericolose. Ed è una mancanza grave che si denota, soprattutto poi quando affronti squadre importanti. Magari con la squadra piccola in qualche modo la giocata, la roba ti viene fuori. Però poi quando affronti squadre comunque più costruite meglio a livello europeo, ma anche in Serie A, lì vengono fuori tutte le criticità della squadra. Sei scontato, sei scontato nel... Perché poi se alla fine la tua soluzione è sempre solo Leao che sgroppa e la mette in mezzo, non può farlo continuamente tutte le partite. Anche lui può beccare la serata? No. La serata dove è più difficile perché è un avversario più forte. Poi ricordiamoci che comunque abbiamo fatto fatica anche a vincere col Genoa, nel senso che poi le vinci con un gol, l'hai vinta lì anche con un gol su cui c'è stata molta polemica per il braccio o non braccio. Cioè comunque quella serata ti è andata bene, diciamo. Se no è un po' che facciamo fatica comunque ad essere prolifici davanti. E il nostro gioco... Perché Pioli non rinuncia al pressing alto? Perché alla fine quello è il nostro gioco. Cioè il nostro gioco si riassume in quella roba lì. Nel senso che lui andando altissimo in quel modo, quella roba lì soprattutto in Italia ti permette di avere un controllo totale, diciamo così, del gioco, soprattutto contro le medio-piccole, perché li pressi in maniera sfissiante, chiudi gli spazi, recuperi palla alta e con le auva in porta. Quello è il nostro gioco. Il problema è che non hai alternativa. Io l'unica volta che ho visto il Milan fare una cosa un po' diversa e anche più umile è stato l'anno scorso col Napoli in Champions. Perché l'anno scorso col Napoli in Champions tu hai fatto la partita che secondo me dovevi e potevi fare stasera. Cioè lì forse, essendo che era lo scontro a eliminazione diretta... Senti che c'è l'andata? Entrambe in realtà. Entrambe, perché comunque il Napoli era nel suo prime, nel suo momento top, giocava un po' sullo stile Paris Saint-Germain con le ali larghe, eppure noi siamo riusciti, stando con le linee belle compatte dietro, a subire relativamente poco, perché poi li costringevamo a crossare in mezzo ed era sempre nostra. Difendevamo bassi lì, stranamente, e le au aveva molto più campo per le sue sgroppate, tanto è vero che ha fatto la differenza. Quella cosa l'abbiamo vista solo lì, poi non ho capito perché non... Cioè, nel senso, io non è che voglio che il Milan faccia il catenaccio, chiariamoci, perché poi subito so già che... Quello che dico è, magari a volte, quando sai che l'avversario è obiettivamente più forte, perché lo è, cioè non c'è nulla di male nell'ammetterlo, fai un qualcosa di diverso. Invece noi stasera abbiamo visto quello che ci aspettavamo. Adesso stiamo vedendo i replay. C'è anche Mbappé, fortissimo, no? Ha fatto un gran gol, ma lo fa anche perché uno contro... Cioè, se tu lasci uno contro uno a Mbappé, è normale che ti purga, che ti può purgare. Però se tu li avevi un raddoppio del crunici di turno, che magari, come col Napoli, raddoppiava su Quara, magari perdevi lo stesso, perché poi il gol lo subisci a quel punto. Però magari facevi una partita diversa, perché in contropiede il PSG in difesa non mi sembra irresistibile, no? No, anzi, ci ha lasciato tanto spazio. Cioè, la cosa che parla via è un po' quello. Va bene. Comunque, ragazzi, il Newcastle, quindi, ha perso col Dortmund. Classifica aggiornata. PSG 6, Dortmund, Newcastle 4, Milan 2. Quindi ad oggi noi saremmo su rete 4 dopo Titanic, suppongo. Però ancora è lunga. È ovvio che il ritorno a San Siro... Ci sono nove punti. Ci sono nove punti in ballo. No, io non sono tra quelli catastrofici, nel senso che sono molto deluso dal percorso Champions sin ad ora, però voglio essere cautamente entonizzato, si dice, no? Ottimista. Anthony, che ricordiamo, ha pronosticato un 3-2 per il mila, però vabbè, dettagli. Questa cosa mi fa ancora più innervosire della sconfitta di per sé. Però, insomma, ci sono dei punti in ballo. Ci sono dei punti in ballo e dobbiamo... Non dipende da noi. Cioè, noi dobbiamo far bene, dobbiamo sperare che poi altre situazioni si concateniamo. Mi pare abbiamo due trasferte. Abbiamo in casa PSG e Dortmund e fuori Newcastle. Ok, quindi due in casa e l'ultima fuori. Esatto. E potrebbe. Potrebbe. Questo doppio... Questa doppia sfida in casa potrebbe. Potrebbe. Grazie, Steve. Grazie a voi. Ciao a tutti. Grazie, Dottor Rondo. Grazie. Ragazzi, se non l'avete fatto, mi raccomando, lasciate... Cos'è? Ok. Stavo pensando. Stavo pensando. Io intanto non trovo il cursore. Sto temporeggiando perché non trovo il cursore. Eccolo qua. Ho visto che non trovo il cursore. Io ne approfitto per ricordarvi che giovedì prossimo tornerà la serie di This is Not a Game sul mio canale, sulla mia squadra, che seguirà il mio campionato, che è sicuramente meglio della banda di Pioli. Quindi, se siete stupidi della banda di Pioli, venite a vedere Lavoro alla Vedanta. Grazie a tutti. Che marchettata. È tutto organizzato. Ho fatto finta di non trovare...